Lotta edifici nel Terramano a causa delle violente raffiche di vento di Garbino che hanno interessato la provincia causando danni diffusi. Il fenomeno ha interessato tutto l'Abruzzo dove i meteorologi hanno registrato velocità eccezionali. Il picco si è registrato a Campo Imperatore con raffiche di 206 km orari. Nel territorio Terramano le aree sub-collinari sono state le più colpite, con campi tra i centri maggiormente danneggiati. A Castelnuovo, nella frazione del comune campese, il vento ha scoperchiato il tetto della storica chiesa di San Giovanni Battista, costruita nel XIV secolo. I detriti sono caduti a terra danneggiando una persiana di una casa vicina senza provocare per fortuna feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la zona e verificare i danni. Sì, continua, purtroppo questa situazione persiste, questa situazione in maltempo, con danni enormi. Ancora non si comprende appunto bene l'entità del danno e purtroppo non cessa a fermarsi questo brutto vento. Speriamo bene perché naturalmente c'è molta apprezzione e preoccupazione da parte dei cittadini. I residenti, sasperati per quella che definiscono una tragedia sfiorata, chiedono all'amministrazione comunale di convocare un consiglio comunale straordinario per affrontare l'annoso problema della messa in sicurezza dell'edificio. La chiesa da anni, considerata pericolosa per cittadini e turisti, necessita di interventi urgenti per evitare ulteriori rischi in futuro. La chiesa di San Giovanni, la storica chiesa di San Giovanni, la Porta Angioina, naturalmente va verificato appena le condizioni lo permetteranno bene l'entità del danno. Al momento quello che sembra da un primo sopralluogo, il primo colpo d'occhio, una situazione veramente molto preoccupante e drammatica. Ovviamente questa problematica lei la porterà in Regione? Io l'ho già portata in Regione diverse volte, c'è tutto il problema della ricostruzione di Castelnuovo che ormai purtroppo è tristemente noto. Quello che porterò in Regione sicuramente nel mio ruolo di Presidente della Commissione di Vigilanza e di cercare di accelerare il più possibile i lavori che dovevano iniziare parecchi anni fa.